Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere il libro Vinci la paura con la tua mente in concia di Joseph Murphy. Basta un piccolo sforzo, cambiare leggermente il punto di vista per accorgersi di quanto sia facile trasformare un'esistenza piena di paure in una vita armoniosa e piena d'amore. Murphy mostra lo spiraglio da cui guardare, la chiave giusta per attivare il nostro subconscio è farlo lavorare per creare dentro di noi le straordinarie idee di prosperità che meritiamo di realizzare. Il tempo che abbiamo a disposizione è prezioso, le paure, gli indugi sono il modo peggiore per sprecarlo. Lo spreco è ancora più grave se pensiamo che spesso preoccupazioni e problemi esistono solo nella nostra mente e quindi siamo noi stessi a impedirci di prendere serenamente le nostre decisioni. Cominciamo subito con questo riassunto. Come creare ricchezza? Bisogna capire come funziona il subconscio per poter creare ricchezza. Considerate la ricchezza come l'aria che respirate. Sviluppate questo atteggiamento mentale. Ralph Waldo Emerson lo disse quando una donna gli chiese come avrebbe potuto prosperare. Lui la portò davanti al mare e le disse guarda. Lei rispose c'è molta acqua. Allora Emerson rispose guarda la ricchezza in questo modo e non ti mancherà mai. La ricchezza è come come il mare non finisce mai quindi ce n'è per tutti. Siete qui per liberare la bontà che è in voi e circondarvi della bellezza, del lusso e della ricchezza della vita ma dovete sviluppare il giusto atteggiamento nei confronti del denaro. Poi quando farete veramente amicizia con la ricchezza ne avrete sempre in abbondanza. Molte persone credono erroneamente che ci si possa sentire ricchi solo quando si hanno delle ricchezze ma si attrae la ricchezza solo quando ci si sente ricchi e la sensazione si crea dall'interno. Aspettare o sperare che il denaro arrivi è una trappola. Sarebbe meglio vivere nella gratitudine per la ricchezza che si desidera prima di poter attrarre ciò che si desidera. Perché i ricchi diventano più ricchi e i poveri più poveri? Chi gode della vera prosperità della vita è consapevole del potere creativo della mente. Quando impressioniamo continuamente il nostro subconscio con idee di abbondanza spirituale mentale e materiale il subconscio porta automaticamente l'abbondanza nella nostra vita. Questa è la grande e divina legge della vita che vale per tutti. È sempre stato così e lo sarà in eterno. Se siamo convinti di essere ricchi e di vivere in un universo infinitamente produttivo la nostra convinzione si rifletterà nelle nostre circostanze e attività. Allo stesso modo se la mia convinzione è che non merito la ricchezza, che la mia fortuna non è buona o che la ricchezza è per gli altri ma non per me allora questa convinzione si rifletterà nelle mie circostanze e attività. Abbiamo spesso spiegato che il subconscio riesce a comunicare con l'intelligenza infinita e ottiene senza filtri tutte le informazioni che noi nutriamo nella nostra coscienza. Se vogliamo cambiare la nostra vita dobbiamo cominciare a filtrare i nostri pensieri ma non permettere a quello che ci potrebbe danneggiare di controllare la nostra mente. Questi due concetti o convinzioni sono i principali fattori che determinano la ricchezza materiale o la povertà. I pensieri di ricchezza producono ricchezza e i pensieri che si concentrano sulla mancanza producono maggiore mancanza. Ecco perché i ricchi diventano più ricchi e i poveri più poveri. Murphy parla di alcuni passi che dovremmo seguire e sui quali dobbiamo ragionare. Primo passo ragionate nella vostra mente sul fatto che il principio della vita o lo spirito vivente è la fonte dell'universo, delle stelle nel cielo, delle montagne e dei laghi. Tutto ciò che potete vedere è merito di questa forza vitale. Il principio vitale vi ha fatto nascere e vi ha fornito tutti i poteri e le qualità della vita. Quindi arrivate alla semplice conclusione che tutto ciò che vedete alla fine è consapevole di essere uscito dal principio di vita. La mente umana e la mente del divino sono una cosa sola perché c'è una sola mente per tutti gli esseri umani e potete pensare che questo sia strano ma Murphy ci spiega che questa è la verità. Il secondo passo. Decidete ora di incidere nel vostro subconscio l'idea di ricchezza. Le idee vengono trasmesse al subconscio attraverso la ripetizione e la fede. Ripetendo più volte una cosa questa diventa automatica e il vostro subconscio sarà costretto ad esprimere ricchezza. Lo schema è lo stesso di quello che seguiamo per imparare a camminare o suonare il pianoforte. Sarebbe utile se credeste in ciò che affermate. Non si tratta di un'assurdità. Qualsiasi desiderio e immagine sono i semi depositati nel vostro subconscio. Potete immaginare il seme che passa dalla vostra coscienza al subconscio. Innaffiando e prendendoci cura di questi semi ne acceleriamo la crescita. La visualizzazione aiuta. Quindi visualizzate già quello che volete ottenere, visualizzate voi stessi in possesso di quello che vorreste ottenere e sentite le emozioni che provereste nel momento in cui riusciste ad avere quello che desiderate e quelle emozioni aiutano a dimprimere nel vostro subconscio la sensazione che voi siate già arrivati, già giunti al punto in cui vorreste essere. Terzo passo. Pronunciate la seguente affermazione con il cuore per circa cinque minuti la sera e la mattina. Sto scrivendo al mio subconscio l'idea della ricchezza divina, la forza vitale è la fonte del mio approvvigionamento. Tutto questo mondo esiste grazie alla forza vitale e ringrazio per le ricchezze che la forza vitale mi dà. Quindi gratitudine, abbiamo detto spesso la gratitudine è la porta che apre tutte le ricchezze, che contribuisce a portare maggiore prosperità nella vostra vita. Se siete grati e avete fede non c'è nulla che vi può fermare. La fede dove sta in questo momento? Beh, sta sul fatto che dobbiamo ringraziare per qualcosa che non abbiamo ancora ottenuto, quindi noi siamo talmente sicuri che riceveremo quello che vogliamo avere che ringraziamo già prima di averla, perché ci sentiamo già in possesso di quella cosa. Quindi gratitudine e fede sono la chiave di tutto. Quarto passo, quando vi vengono pensieri di mancanza come non posso permettermi quel viaggio, non posso pagare il mutuo, sostituiteli con pensieri di ricchezza e prosperità. Non lasciate mai passare inosservata un'affermazione negativa sulle vostre finanze. Questo è obbligatorio per tutti, invertite questa tendenza immediatamente nella vostra mente dicendo la forza vitale è il mio rifornimento immediato ed eterno e quel conto è pagato dall'ordine divino. Se un pensiero negativo vi viene in mente, anche solo poche volte al giorno, invertitelo ogni volta, quindi sostituitelo con un pensiero positivo. Perché non potete chiudere la mente, non potete fermare i vostri pensieri, ma potete sostituirli e lo potete fare pensando all'opposto. Dopo un po' il pensiero della mancanza di risorse finanziarie perderà ogni forza e scoprirete che il vostro subconscio è stato condizionato alla ricchezza. Se guardate un'auto nuova non dite mai non posso comprarla, non avrò mai un'auto simile, perché il vostro subconscio crede a tutto quello che voi nutrite nella vostra coscienza, quindi quando siete svegli e attira questa mancanza, questa povertà attraverso il contatto che ha con l'intelligenza infinita. Quando noi siamo svegli la nostra coscienza ha il controllo sul subconscio, perché siamo noi a decidere, a pensare, a ragionare, ma quando dormiamo il subconscio si impossessa della nostra coscienza e quindi ottiene tutte le idee che ci sono lì e lavora per raggiungerle attraverso il contatto con l'intelligenza infinita. Rapporto con il subconscio. Fidatevi del vostro subconscio. Se rimanete preoccupati o ansiosi chiedendovi dove o come si realizzerà il vostro desiderio, vi state intromettendo. Questo indica che non vi fidate del potere del vostro subconscio. Quando pensate al vostro desiderio la leggerezza è essenziale. Ricordate che l'intelligenza infinita lavorerà per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi ed è meglio fidarsi di essa piuttosto che passare il tempo a preoccuparvi in modo costante come uscire da una situazione difficile in cui vi trovate. Per esempio se dite ho bisogno di 7.000 euro entro il 15 del prossimo mese o il giudice deve prendere una decisione a mio favore entro il primo del mese, altrimenti perderò la mia casa, la attività. Questi sono segni di paura e tensione. Quindi porteranno blocchi mentali, difficoltà nella vostra vita. Quando siete ansiosi o tesi non credete pienamente nel potere del vostro subconscio. E questo significa che il subconscio non può apportare prosperità, pace mentale o qualsiasi cosa desideriata. Quindi andate in un luogo di assoluto riposo e dite a voi stessi mi sia fatto ciò che credo. Tutto è pronto se la mente è pronta, il che significa che tutto ciò che devo fare è preparare la mia mente a ricevere la guida, la ricchezza, la soluzione necessaria. Ripetete queste verità e questo contribuirà a guidare la vostra mente a darvi pace e quando la ragione è in pace ottiene la risposta. L'intelligenza infinita conosce la risposta per cui non siate tesi e rilassatevi, non date potere alle condizioni esterne o alle difficoltà in cui vi trovate, date potere all'intelligenza infinita. Riprogrammare il subconscio. Per prima cosa è necessario esaminare il funzionamento di questo metodo per capire come si può creare ricchezza attraverso il potere del subconscio. Immaginate di essere ipnotizzati. In questo stato la mente cosciente è sospesa e il subconscio dà le risposte. Ad esempio supponiamo che l'ipnotizzatore suggerisca che siate il leader del vostro paese. Il subconscio accetterebbe l'affermazione immediatamente. Il subconscio non ragiona e non sceglie, considera tutto come vero. Se vi venisse dato un bicchiere d'acqua e vi dicessero che siete ubriachi fareste la parte dell'ubriacone. Quindi il subconscio può credere a qualsiasi cosa. Inoltre ricordate che il vostro subconscio accetta sempre il predominio di due idee. Cioè accetta la vostra convinzione senza dubbio sia che la vostra premessa sia vera o falsa e questo perché nella vostra mente subconscia risiede un'intelligenza infinita indipendentemente da come la chiamiamo. Possiamo chiamarla Dio, Spirito Vivente, Allah, Brahma. Il punto è che si trova lì dentro di voi. Tutti i pensieri dell'infinito e tutte le forze dell'intelligenza infinita sono dentro di voi. Superare i condizionamenti negativi. Fin dall'infanzia la maggior parte di noi è stata programmata negativamente. Non rifiutando i suggerimenti negativi li abbiamo accettati inconsciamente. Ad esempio può capitare che vi sia stato detto ripetutamente questo non lo puoi fare. Di conseguenza potreste aver sviluppato un atteggiamento rinunciatario. Forse qualcuno vi ha detto non riuscirai mai a fare nulla nella vita. Per questo motivo avete un complesso di inferiorità. Se accettate questi suggerimenti negativi permettete al vostro subconscio di essere programmato negativamente. Di conseguenza avete un'altra probabilità di sviluppare un senso di paura e di ansia. Prendendo il giornale ogni giorno si possono trovare molti articoli che possono seminare nella mente i semi della paura e della preoccupazione. Se questi pensieri vengono accettati questi condizionamenti di ansia potrebbero farvi perdere la voglia di vivere. Fate attenzione ai suggerimenti negativi che gli altri esprimono. Tutti noi ne abbiamo sofferto nell'infanzia e nell'adolescenza. Guardando indietro è facile ricordare come i genitori, amici e parenti abbiano influenzato il vostro pensiero con i loro suggerimenti negativi. Gran parte di ciò che è stato detto aveva lo scopo di controllarvi o di incutervi paura. I suggerimenti negativi sono comuni in ogni casa, scuola o posto di lavoro. Potete rifiutare le suggestioni negative e sostituire i modelli di pensiero negativi con quelli positivi. Per esempio supponiamo che Marco abbia un brutto malessere dovuto al fatto che si sente dire spesso che non ha alcun valore. Un modo per affrontare questo problema è sedersi ogni sera prima di dormire e al mattino dopo essersi alzati e affermare quanto segue. Da ora in poi sarò sempre di buon umore, avrò più gioia e felicità e pace interiore, ogni giorno sto diventando una persona sempre più comprensiva e questo stato d'animo felice sta diventando il mio stato d'animo naturale e ne sono grato. Potete prendere queste informazioni, ripeterle e ricordare a voi stessi che le state scrivendo nella vostra mente e ciò che è impresso nel vostro subconscio diventa reale. Allo stesso modo potete riprogrammare il vostro subconscio. Quindi ogni mattina della vostra vita sedetevi in silenzio, rilassatevi e affermate che la legge e l'ordine divino governano la vostra vita e il sacro successo è vostro, la pace riempie la vostra anima, l'abbondanza divina è vostra, l'amore divino è con voi e rende la vostra vita più felice. Ripetetele spesso, gradualmente la ripetizione, la fede e l'aspettativa entreranno nella vostra mente subconscia e tutto ciò che viene impresso nel subconscio viene confermato. Quindi inizierete a vivere una vita di pace e amore. Scegliete il vostro signore maestro. Il vostro signore maestro è un'idea o una convinzione dominante nella vostra mente. Murphy ci presenta una storia. Due ragazzi crescono nello stesso quartiere povero del Brasile, frequentano la stessa scuola e giocano a calcio nello stesso parco. Uno dei due crede che l'unica strada per la ricchezza sia la competizione per le risorse, quindi sottraendole agli altri inizia a vivere con la gente sbagliata, ruba nei negozi locali, si intrufola nelle case quando i residenti stanno lavorando, lotta costantemente per sopravvivere e con il passare degli anni viene coinvolto in crimini più gravi. L'altro ragazzo crede nell'abbondanza infinita, nelle possibilità di creare ricchezza. Sua madre prepara il pane ogni mattina e lo vende quotidianamente al mercato. Con il tempo risparmia e prende in prestito abbastanza denaro per viaggiare negli Stati Uniti. Una volta lì noleggia video e li guarda per alcune ore al giorno per imparare l'inglese. Fa due lavori per mantenersi e mandare soldi a casa alla madre. Grazie alle sue conoscenze sul lavoro ottiene un lavoro come venditore di televisioni e servizi internet e diventa rapidamente il miglior venditore della sua regione. Viene promosso a direttore vendite regionale e guadagna uno stipendio annuale di 100.000 dollari. La differenza fondamentale tra questi due ragazzi è che hanno creduto nella loro mente. La convinzione di un ragazzo lo costringe a vivere una vita piena di crimini, la convinzione dell'altro ragazzo gli ha permesso di avere una carriera di successo. Le circostanze esterne della sua vita non definiscono nessuno dei due ragazzi, sono loro a creare gli eventi esterni attraverso i loro pensieri, le loro scelte e le loro azioni. Ricordate questa storia ogni volta. immaginate la vostra strada verso la ricchezza per realizzare qualsiasi desiderio e infondere in essa emozioni positive e gratitudine. È un processo molto difficile secondo Murphy. Il solo desiderare o chiedere qualcosa non produrrà nulla. È necessario avere piena fiducia nel proprio desiderio. Quindi abbiamo parlato prima fede e gratitudine. Per entrare in contatto con il subconscio procedete come segue. Primo passo immaginate ciò che desiderate. Ad esempio potete immaginare di essere un medico che si prende cura dei suoi pazienti, di guidare una bella macchina nuova, avere un patrimonio di tot milioni. Bisogna avere un'immagine chiara nella mente di ciò che si desidera perché questo è essenziale. Poi, secondo passo, immaginate il vostro desiderio come un'emozione positiva, come l'attesa di ricevere l'oggetto della vostra immaginazione. L'emozione positiva è necessaria perché trasferisce l'immagine mentale dalla coscienza al subconscio. terzo passo pensate ad una parola o ad una frase che rappresenti la sensazione di avere o fare ciò che immaginate. Ad esempio è mio o un semplice grazie. L'importante è collegare la parola nella mente con un'immagine mentale. Ogni volta che dite grazie pensate alla macchina nuova, ad esempio. Quarto passo entrate in uno stato di rilassamento e ripetete quella parola nella vostra mente. Ogni volta che pronunciate la parola o la frase sentite la realizzazione del vostro desiderio. Ad esempio, se desiderate il denaro sentitevi ricchi. Fatelo almeno tre volte al giorno per 15 minuti per ogni sessione. Con il tempo l'immagine positiva verrà trasferita al vostro subconscio e il potere creativo che in voi troverà il modo di realizzare ciò che desiderate. Cambiare il modo di pensare. Impegnare il potere della fede. Tutto ciò che assumete e costruite nella vostra mente diventerà reale nel mondo che vi circonda. Potete ottenere l'auto che desiderate o la promozione. Per questo motivo inizierete ad attirare nella vostra vita cose che non vi aspettavate. normalmente, cioè senza conoscere questo segreto e queste informazioni, probabilmente non ci pensereste nemmeno. Vorrei quest'auto, vorrei questa casa perché sarebbe qualcosa di assurdo, cioè sarebbe un sogno e quindi quando siete svegli cercate di non sognare, di non pensare alle cose che non possono secondo voi accadere. Però la realtà è diversa. La condizione principale quindi è la fede. Per sviluppare la fede bisogna escludere discussioni interne e affidarvi al potere del subconscio. Potreste dire ho questa ambizione ma non si realizza, cosa posso fare? La risposta è prendere le distanze da tutto ciò che vi fa dubitare del potere del vostro subconscio. Rendetevi conto che potete realizzare tutti i vostri desideri applicando questo principio. Dovete tenere la mente lontana da tutte le false credenze. Dimenticare il passato. Se volete prosperare dimenticate il passato. Cercate di non vivere nel passato. Potete rendere vivo il vostro presente oggi concentrandovi su di esso. Purtroppo le persone spendono tempo ed energie pensando a quanto erano, vivevano meglio in un'epoca passata, come si stava bene eccetera e non si concentrano su come migliorare il loro presente. Pensate pure ai vostri successi ma non soffermatevi mai su quanto eravate ricchi o su quanto siano complesse le circostanze odierne. L'offerta infinita è disponibile ora. Se sapete che l'offerta è infinita non sarete mai gelosi di un'altra persona o invidiosi. Quando siamo invidiosi chiudiamo le porte della ricchezza. Seguire un modello per una vita più prospera. Siete nati per vincere e trionfare su tutti gli ostacoli della vita. Murphy racconta una storia molto interessante. Dice sono in azienda da dieci anni e non ho ricevuto una promozione o aumento di stipendio. Ci deve essere qualcosa di sbagliato in me. Questa frase è stata pronunciata da un certo John durante la sua prima conversazione con l'autore, con Joseph Murphy. Parlando con lui, l'autore ha scoperto che aveva uno schema inconscio di fallimento. John si diceva continuamente non sono bravo, sto perdendo il lavoro. Era pieno di negatività, era molto autocritico e alla fine l'autore gli ha spiegato che queste parole sono molto pericolose e che a causa di esse potrebbe perdere il suo entusiasmo e la sua energia. Murphy gli ha anche detto che non dovrebbe dire queste parole a se stesso e gli ha consigliato di non dire più che non è bravo perché sono commandi per il suo subconscio che ostacolano poi i successi nella sua vita. John gli chiese è per questo che non sto crescendo nel mio lavoro e la risposta era sì perché John si era fatto un'immagine mentale di rifiuto, incapacità che stava bloccando il successo nella sua vita. Murphy gli disse di dimenticare il passato e di pensare il futuro. Gli diede la seguente tecnica per imprimere immagini positive nella sua mente subconscia. Grazie a queste tecniche John iniziò a immaginare la moglie che si congratulava con lui per una promozione che aveva, avrebbe dovuto ricevere ma che non era mai venuta, però lui in quel momento cominciò a pensare e a credere che ci fosse riuscito. Conversava mentalmente con la moglie cara oggi ho ricevuto una fantastica promozione il capo si è complimentato con me e riceverò un aumento di stipendio di 1500 dollari all'anno. Poi immaginava la risposta della moglie, sentiva la sua voce, il suo sorriso, i suoi gesti e tutto era reale nella sua mente. Gradualmente questo film mentale si spostò dalla sua mente cosciente al subconscio. Alcune settimane dopo John venne a trovare l'autore e gli disse il mio capo mi ha nominato direttore del distretto e la tecnica che lui gli aveva consigliato aveva funzionato. Quindi quando vi sentite bene e credete nel bene allora il bene si manifesterà. John credeva che avrebbe ricevuto una promozione e un aumento di stipendio. Potete creare un'immagine mentale del vostro desiderio e attirarlo nella vostra vita usando il potere del vostro subconscio. Siete ricchi e di successo grazie a ciò che siete dentro di voi. I quattro passi per il successo nella carriera. Molte persone credono erroneamente che il successo della carriera dipenda esclusivamente da fattori esterni. Ad esempio possono attribuire il successo di qualcun altro alla fortuna o alla buona sorte. Spesso queste persone non danno credito agli altri perché li invidiano segretamente o non vogliono mostrare le loro carenze. La verità è che il successo professionale si basa più su fattori interni che esterni e tutti possono raggiungere il successo professionale. Ecco quindi quattro passi per il successo professionale. Numero uno incarnare le qualità personali necessarie per il successo. Se fosse possibile fotografare le vostre convinzioni subconce esse corrisponderebbero esattamente alla vostra realtà e questo vale per tutti gli aspetti della vita. Quali sono le qualità che dovete sviluppare in voi? La risposta è amore, pazienza, fede e gioia. Gioia nel senso di entusiasmo. Due, scoprite cosa vi piace fare e dopo averlo scoperto iniziate a farlo perché il piacere del lavoro genera l'energia e la passione necessarie per raggiungere il successo. Chiedete una guida se avete bisogno di conoscere la carriera o il campo che dovreste intraprendere. Dite all'intelligenza infinita, rivelami i miei talenti nascosti e guidami verso il mio vero posto nella vita. Dite questo in silenzio, in modo positivo, al vostro sé più profondo e mentre lo dite abbiate fede nell'intelligenza infinita e otterrete la risposta attraverso una sensazione o un'opportunità, un'idea eccetera. Tre, specializzatevi in un settore del vostro campo e conoscetelo meglio di chiunque altro. Dopo aver scelto una specializzazione dedicatele tutto il vostro tempo e le vostre attenzioni. Se possibile imparate a conoscerla meglio di chiunque altro. Offrite il vostro lavoro come una benedizione non deve essere egoistico ma deve andare a beneficio dell'umanità. Per esempio qualcuno potrebbe dire che il signor X ha guadagnato molti soldi commettendo frodi. Può sembrare che ci si riesca per un po' ma il denaro che questa persona ha ottenuto con l'inganno di solito vola via. Ricordate questa cosa, il male che facciamo agli altri lo facciamo anche a noi stessi. Questo era il libro Vinci la paura con la tua mente inconscia di Joseph Murphy, un libro che ti offre lo spiraglio da cui guardare, la chiave giusta per attivare il subconscio e farlo lavorare per creare dentro di te le straordinarie idee di prosperità. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!